Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente risponderò alle domande che mi avete lasciato sotto il video. Allora io direi di non perderci in chiacchiere e di cominciare perché sono davvero tante le domande, il che mi fa molto molto piacere. Però adesso non so dirvi se suddividerò questo video in due parti oppure no. Poi vedrò, perché se mentre registro vedo che supero i 20-25 minuti probabilmente lo suddividerò in due parti, altrimenti no. Comunque sapete benissimo che io quando attacco a parlare non la finisco più, quindi passiamo alle domande. Allora prima domanda di gladiatore giallorosso94, che saluto, persona veramente educata per bene, seguo ogni tanto il suo canale anche se apparteniamo a due fedi calcistiche totalmente diverse, totalmente differenti, comunque lo saluto. Gladiatore giallorosso mi chiede, come è nata la tua passione per il calcio e per l'Inter? Un salutone, un saluto anche a te. Comunque per quanto riguarda la mia passione per il calcio e per l'Inter, io non ricordo quando è nata. Io rispondo sempre alle persone che mi fanno questa domanda, è nata insieme a me. Perché io sin da quando sono piccola amo il calcio. Tipo quando ero piccolina ancora non capivo niente, mi mettevano lì sul divano e io guardavo la partita. Ogni volta che c'era una partita io la guardavo zitta zitta. Ero proprio fissa sul televisore a guardare, soprattutto quando giocava l'Inter. La passione per l'Inter comunque me l'ha trasmessa mio papà. Mi ricordo ancora il mio primo completino. Quando ero piccolina mi è stato proprio ordinato da Milano il completo originale di Ronaldo, il fenomeno. E quindi a volte uscivo con questo completino, con la maglietta di Ronaldo, i pantaloncini e anche calzettoni. E uscivo così con mio papà. Poi comunque mio papà mi ha sempre portato ovunque a guardare le partite. Quindi così è nata, nel senso che è stato grazie a mio padre e poi sono proprio cresciuta con il calcio nel cuore. E soprattutto con i colori nerazzurri che mi scorrono nelle vene e ogni giorno li amo sempre di più. Poi andiamo avanti. Rock and roll, country blues. Ciao Sara, che cosa ne pensi degli studi del professor Corrado Malanga riguardo agli alieni? Ciao a te. Allora, per quanto riguarda il professor Corrado Malanga, non è una persona che io seguo. Nel senso che non è una persona di cui, per esempio, ho guardato tutti i video. Ho guardato qualcosina, ho anche letto un suo libro che, se non erro, si intitola Alieni o Demoni. E devo dire che ho trovato parecchio interessante quella che è la sua classifica degli alieni, quando parla degli alieni, di questi esseri che in realtà si divertono, tra virgolette, a rapire poveri malcapitati. Quindi ho anche trovato molto interessante le analisi che poi fa in ipnosi regressiva, le varie testimonianze che ha portato nel libro, che ha trascritto nel libro. Quindi questa parte l'ho trovata molto interessante, su alcuni punti concordo anche con lui. Però, diciamo, esprimere un giudizio generale su questo professor Corrado Malanga non me la sento, perché non è una persona che io seguo. Poi, Zanna Bianca mi chiede, Sarenca, cosa ne pensi dei nuovi acquisti dell'Inter? Allora, io diciamo che in merito a questa cosa mi sono già espressa parecchie volte. Allora, devo dire che gli acquisti dell'Inter, tre per il momento, De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, devo dire che mi piacciono. Mi piacciono perché comunque partiamo da un difensore centrale, poi vabbè, Asamoah sono, De Vrij e Asamoah sono giocatori che assolutamente ci servono, ci servivano, fortunatamente sono arrivati. Lautaro Martinez, diciamo, è un ragazzo, è un ragazzo che bisognerà vedere cosa andrà a fare, cosa andrà a combinare all'Inter. Però diciamo che tanti parlano bene di questo ragazzo, quindi per il momento sono soddisfatta. Ovviamente bisogna creare, come ha detto Spalletti, non ci possiamo aspettare chissà quale nome, spero che agiscano anche lì a centrocampo, perché secondo me anche il centrocampo non andrebbe, non va trascurato, però comunque sono soddisfatta. Sono soddisfatta e già mi ero espressa nei video precedenti in merito a questa domanda che mi hai fatto. Poi, cuore nero azzurro, hashtag amala, amala sempre. Perché hai deciso di metterti in gioco su YouTube? E chi ti ha trasmesso la passione per l'Inter? Amala, amala sempre. Allora, per quanto riguarda chi mi ha trasmesso la passione per l'Inter? Mio papà. Per quanto riguarda invece la domanda del perché ho deciso di mettermi in gioco su YouTube, non c'è un perché, nel senso che io prima di creare questo canale avevo visto qualche video anche riguardante il calcio, l'Inter e tutto quanto e ad un certo punto, una sera così, mi è venuto in testa e niente, mi sono messa a registrare il video. Perché? Perché volevo anche io esprimere un parere riguardo quella determinata partita, riguardo l'Inter, dato che comunque il calcio è la mia più grande passione. E quindi ho deciso di creare un canale su YouTube per esprimere quello che è il mio parere riguardo a determinate cose. Poi ovviamente il mio canale è nato per parlare di calcio, ma poi, andando avanti, ho anche introdotto altri argomenti come il paranormale, il mistero, l'ufologia. Proprio perché a me i canali che trattano soltanto un argomento, soltanto un tema, non mi piacciono, non mi piacciono, mi piace sempre variare. Quindi, in un certo senso, mi sono anche registrata qui su YouTube per conoscere persone con cui parlare di determinati argomenti. Perché trovare una persona con cui parlare di ufologia, ma anche di calcio, ufologia, alieni, misteri, paranormale, è davvero molto, molto difficile nella vita reale. E quindi anche per confrontarmi con tante persone, per conoscere anche persone nuove, nuovi pareri, per conoscere anche persone, tifose della mia stessa squadra, confrontarmi anche con tifosi di squadre differenti. Quindi un po' per questo motivo. Poi andiamo avanti. Air, air, eyeshadow? Spero di averti letto bene, altrimenti chiedo Venia. Come è nata la tua passione per l'inter? PS, sempre forza intro. Anche tu mi fai questa domanda, io ho già risposto a questa domanda. La passione per l'inter è nata con me. Io sono nera azzurra sin dalla nascita. Poi, Robisanna. Ciao Sara, hai mai visto un UFO e a voglia? Sì, e non soltanto uno, ma tanti oggetti non identificati. Ovviamente non è che vengo qui a dirvi che sono sicurissima che all'interno di questi oggetti c'erano degli alieni. No, perché probabilmente poteva anche essere opera, qualcosa di umano. Però mi è capitato di vedere tantissime cose. Un'esperienza eclatante l'ha avuta mia madre. Magari queste cose ve le racconterò in un video a parte. Tipo una notte mi è capitato, era sera, proprio qui, mi è capitato di vedere una sfera gigantissima, tutta illuminata di giallo. Ma proprio gigante, tutta illuminata di giallo. Un'altra volta mi è capitato di vedere una sfera che si muoveva a zigzag. Un'altra volta, questo in Polonia, ho visto anche tipo un qualcosa di cilindrico girare in maniera grigio. Era grigio, a forma tipo cilindrica. E questa cosa girava. Comunque sì, mi è capitato parecchie volte di avvistare oggetti non identificati nel cielo. Poi fammi sapere se anche a te è capitato di vedere qualche oggetto non identificato. Andiamo avanti, leggiamo la domanda di Irene Gheri. Rispetto all'intervista alla certa, sto seguendo tantissimo i tuoi video di quell'intervista. Mi fa molto piacere. Mi chiedo tu cosa pensi riguardo, se questa intervista è vera o falsa? Seconda domanda, pensi che nel giro di 50 anni più o meno ci parleranno dell'esistenza di alieni? Ci faranno entrare meglio in tutto questo mondo? Mi riferisco ai grandi capi dello Stato e del, poi non mi fa leggere più, non so perché, del governo probabilmente volevi dire. Comunque, innanzitutto ti dico, mi fa immensamente piacere che questa serie che ho portato qui sul mio canale ti interessa, ti sta interessando. E ti dico che io non so se questa intervista è vera o falsa. Probabilmente potrebbe essere un falso il fatto che questa persona ha effettivamente intervistato un essere rettiliano, come potrebbe anche essere vero. Quindi, un enorme punto interrogativo non lo so. Però ti posso dire che tante delle cose che vengono affrontate in questa intervista, tanti sono i temi che vengono affrontati in questa intervista, che secondo me sono assolutissimamente veri. Perché molte delle cose che questa rettiliana dice sono vere. Secondo me si tratta di un qualcosa di vero. Quindi questo ti posso dire. Per quanto riguarda la seconda domanda che mi hai fatto, se penso che nel giro di 50 anni ci parleranno dell'esistenza di alieni, io ti dico che non lo so, non lo so se il governo si sbilancerà così tanto da dichiarare finalmente, una volta per tutte, l'esistenza comunque degli alieni. Io devo dirti comunque che negli ultimi anni ci sono state persone che si sono sbilanciate, che hanno deciso di uscire e soprattutto di aprire gli occhi all'umanità. Basti pensare all'ex ministro della difesa canadese, Bushman, colui che in punto di morte ha rivelato dei dettagli veramente scioccanti e tra l'altro ha anche mostrato contenuti, foto, stop secret dell'area 51. Quindi ci sono state persone che hanno deciso di uscire allo scoperto, lo stesso Philip Corso che ci ha scritto anche un libro riguardante il crash di Roswell. Quindi le persone sì, senz'altro ci sono state nel corso degli anni persone che hanno deciso di aprire gli occhi all'umanità, però adesso non ti so dire se effettivamente il governo riuscirà oppure no a dichiarare una volta per tutte la reale esistenza di questi esseri provenienti probabilmente da altri pianeti. Quindi spero di essere stata chiara nella risposta. Poi continuando c'è Marco Motti, Marco Mottaran. Cosa pensi ci sia dopo la morte? Te l'avevo chiesto altre volte ma visto che questa è un'altra occasione per farla, allora eccola qui. Ciao Sara, un abbraccio Marco Motti. Ciao Marco. Allora, per quanto riguarda la tua domanda, io vorrei rispondere in un video a parte perché adesso se mi metto a parlare non la finisco più. Allora, io non posso dirti proprio nello specifico cosa c'è dopo la morte e magari dirti soltanto una cosa. Per esempio, dopo la morte secondo me c'è la reincarnazione perché come vi ho già detto in un video precedente, nel momento in cui si parla di questi argomenti che sono argomenti veramente basti, ci sono tantissime cose che andrebbero dette. Io ti posso soltanto dire che dopo la morte ci potrebbe essere qualcosa come non ci potrebbe anche essere niente, ci potrebbe essere effettivamente la reincarnazione o magari l'anima che raggiunge un'altra dimensione, una dimensione in cui si raccolgono in un certo senso tutte le anime. Poi qui ovviamente subentra il discorso delle anime in pena, di coloro che non riescono a raggiungere quella determinata, quella diciamo dimensione, quindi rimangono qui e danno fastidio magari a chi è ancora in vita. Quindi ci sono davvero tanti punti da affrontare, Marco, e secondo me sarebbe meglio farlo in un video a parte, altrimenti davvero non se ne uscirebbe più. E muvolante mi chiede, hai mai pensato di aprire un altro canale più incentrato sul gaming? Allora, io vi dicevo qualche tempo fa a me, tipo la Playstation, i giochi piacciono, però non è che mi piacciono nel senso che se tu mi levi la Playstation o mi levi i giochi, io vivo uguale. Anzi, ci sono cose molto, molto, molto più importanti. Non sono un'attaccata al gioco, sì mi piacciono, però non sono un'attaccata al gioco. Quindi, io innanzitutto devo dirvi che portare avanti un canale è già un impegno, soprattutto per me che non parlo soltanto di calcio, ma mi dedico anche a realizzare video lunghini, in cui vi parlo di argomenti, alcuni argomenti difficili da affrontare. Quindi, io un secondo canale, ora come ora, non ce la faccio ad aprirlo, mi è stata già fatta questa domanda. Infatti mi chiedevano, perché non dedichi magari un altro canale al paranormale? Però non ce la posso fare. Quindi, sul mio canale, qualora dovessi portare qualche video incentrato sul gaming, come mi chiedi tu, probabilmente lo porterò su questo canale, perché davvero aprire un secondo canale sarebbe come darmi il colpo di grazia, e quindi no. Francesco Tamburella, Gabigol, hai sentito le ultime sul suo ritorno? Cosa ne pensi? Sempre grandissima. Grazie Francesco Tamburella, sempre gentilissimo. Comunque, sinceramente, questa storia di Gabigol, non è che la sto seguendo chissà quanto. Per quanto riguarda Gabigol, mi va di dire questo. A me non fa impazzire. Non fa impazzire, probabilmente non lo reputo neppure un giocatore da Inter. E arrivato all'Inter, ovviamente non ha avuto molto spazio. È stato inserito qualche volta, in qualche partita, per qualche minuto. E diciamo che quello che ha fatto vedere non è stato proprio, ecco, non so come vi devo dire, un qualcosa di spettacolare. Però è pur vero che dall'altra parte dobbiamo ammettere che effettivamente questo giocatore non ha avuto molto spazio. Allora, a me Gabigol non piace molto. E sinceramente non vorrei un suo ritorno all'Inter. Perché ritornerebbe per fare cosa? Il panchinaro anche quest'anno. Quindi, sinceramente, io un suo ritorno non lo voglio. Però, come giocatore anche, non è che mi convince molto. È vero che non ha effettivamente avuto molto spazio per giocare. Però non dobbiamo neppure pensare all'Inter come ad una squadra in cui arrivano giocatori a cui bisogna, in un certo senso, dare spazio. All'Inter devono arrivare giocatori che sanno quello che fanno. Cioè, che sanno quello che devono fare, ovvero onorare la nostra maglia. Non ci possiamo sempre permettere di puntare su giocatori che non sappiamo se valgono oppure no, dare spazio e poi magari perdere le partite così. Quindi, ci vogliono giocatori con esperienza. Comunque, anche giovani che dimostrano qualcosina in più. Quindi, Gabigol... Sinceramente non sto seguendo Francesco, però io non vorrei un suo ritorno. Poi, Mattia Lombardi. Ciao Sara, tutto bene? Sono Matti di Milano. Di dove sei e quanti anni hai? E poi voglio altri tuoi video. Sei da sposare, ti voglio bene. Ciao da Matti. Ciao a te. Io diciamo sì, dai, va bene. Io non dico mai che va bene, però sì, diciamo che va. Di dove sono? Vivo in Puglia. Quanti anni ho? 23. Gli ho compiuti proprio il 23 maggio. Andiamo avanti. Allora, Bomber Ciaccio. Ciao Sara. Ciao Cristian. Ormai, è probabile che ti abbiano già fatto questa domanda, ma io ti seguo da qualche mese. Quali sono i tuoi hobby nella vita, a parte calcio e paranormale, se lavori o studi per conoscersi meglio? Allora, sì, lavoro, non un studio. Per quanto riguarda i miei hobby nella vita, vabbè, a parte il calcio e il paranormale, comunque mi piace moltissimo leggere. Diciamo che io ho degli hobby particolarmente tranquilli. Per esempio, mi piace leggere, mi piace scrivere e soprattutto mi piace fare escursionismo. Queste lunghe passeggiate, soprattutto nei boschi, mi piace andare in montagna. Tipo quando vado in Polonia, ogni volta con mio nonno esco quasi una giornata, per una giornata intera a fare escursionismo nei boschi. Magari guardare anche gli animali che popolano i boschi. I boschi in Polonia sono veramente spettacolari. Quindi queste sono le cose che mi piace fare. Poi Giuseppe Sias, ciao Sara, ti piacerebbe lavorare in televisione per condurre una trasmissione tipo Mistero? Secondo me hai tutti i requisiti per poterlo fare, sei bella, brava e preparatissima sull'argomento e penso che non avresti problemi a stare davanti alle telecamere, visto la spigliatezza che possiedi nei tuoi imperdibili video. Io te lo auguro vivamente. Allora, innanzitutto ciao Giuseppe, sempre gentilissimo, educato e composto nei commenti che fai. Ormai commenti i miei video da un bel po' di tempo, devo dire che è davvero persona educatissima. Comunque sì, ovviamente sì, mi piacerebbe davvero tanto condurre una trasmissione come Mistero ed essere sempre a contatto con il Mistero, il paranormale, magari andare a visitare posti infestati, misteriosi. E ti ringrazio di vero cuore per l'augurio che mi hai fatto. Quindi chissà, mai dire mai nella vita, speriamo. Adesso ovviamente mi sembra un qualcosa di lontano, di lontano però nella vita mai dire mai. Comunque sì, mi piacerebbe davvero molto. Bosco Incantato, da tifosa dell'Inter, secondo te chi si salverà tra Spale e Crotone? Allora, io purtroppo questo video lo sto registrando dopo la fine del campionato, quindi penso che la classifica ha già risposto. Roni7TV, oppure Roni7TV, perdonami, comunque vedo che alla fine della domanda mi scrivi che ti chiami Tony, quindi Tony. Una domanda la vorrei fa' ma come mai sei così bella, vabbè, complimenti, comunque. A parte gli scherzi, cosa ne pensi dei punti guadagnati dall'Inter, solo 71 e delle troppe sconfitte? Gabigol, secondo te è forte e comunque può diventarlo, dimmi cosa ne pensi, io comunque sono Tony. Allora, ciao Tony. Partendo dalla... Allora, per quanto riguarda Gabigol, ho già risposto. Secondo me potrebbe anche diventare forte chi sono io per dire di no, chi sono io per dire di sì. Comunque, per quanto riguarda i punti guadagnati dall'Inter, solo 71 e delle troppe sconfitte. Allora, innanzitutto, parlando in generale dell'Inter, io non mi sento di bocciare la mia squadra quest'anno, perché avevamo un obiettivo, avevamo previstato un obiettivo e fortunatamente siamo riusciti ad arrivare e a raggiungere questo obiettivo. Quindi l'Inter, secondo me, non è assolutissimamente da bocciare. Poi ovviamente ti dico che mi aspettavo di più, mi aspettavo, come ogni anno, una stagione un pochetto più positiva. E ti dico che le sconfitte, soprattutto i pareggi, ci hanno fatto perdere appunto tantissimi punti. Sconfitte e pareggi che sono soprattutto arrivati contro squadre, diciamo, un pochino più piccole, perché tipo con il Napoli andate a ritorno abbiamo pareggiato. E poi magari andiamo a perdere con il Torino. Vabbè, in quell'occasione avevamo comunque giocato bene. Però sì, diciamo che ti viene un po' l'amaro perché dici, cacchio, le potevamo anche portare benissimo a casa quelle partite. Però in generale il campionato era mai finito, quindi ti dico che la mia squadra non mi sento di bocciarla. Sono arrivati all'obiettivo che ci eravamo prefissati sin dall'inizio, quindi va bene così. Nicolas sbarra. Sara, se l'Inter andrà in Champions, che calciatori compreresti? Oddio, che calciatori comprerei io o che calciatori potrebbero effettivamente arrivare? Guarda, io ti dico, ce ne sarebbero di giocatori, perché a me piacciono tanti giocatori. Però diciamo che adesso abbiamo acquistato De Vraia, Samoa e Lautaro Martinez. Magari adesso mi concentrerei più sul centrocampo, quindi Nainggolan, comunque Giovanni Silvestro mi richiede. Ciao Sarenka, ciao a te. Quali sono i tuoi obiettivi futuri nella vita? In pratica cosa vuoi fare da grande o cosa ti piacerebbe fare? Parlami un po' dei tuoi pensieri, visto che non ti conosco, mi piacerebbe saperli. Allora, per quanto riguarda il classico sogno nel cassetto, mi piacerebbe fare l'archeologa. Quali sono i miei obiettivi futuri nella vita? Allora, se c'è una cosa che ho imparato nella vita, è proprio quella di godermela giorno per giorno, perché purtroppo in alcuni casi la vita non si può pianificare, perché oggi ti accade una cosa, la prossima settimana questa cosa può essere totalmente stravolta. Quindi io non sono una ragazza che pensa già a quello che farà tra un tot di anni. Mi piace vivermi la vita. Per il momento non sto, non sto studiando. Comunque vorrei innanzitutto andare in un posto che mi piace, vivere in un posto che mi piace, non in un paese che non ha niente da offrire, in un posto in cui ci sono persone che io proprio ciao. Quindi sì, mi auguro di riuscire a trovare la mia pace dal punto di vista del luogo, quindi andare a vivere comunque in un luogo che mi piace. Questo è, però adesso sogni, mi auguro di viaggiare, perché viaggiare è una delle cose che mi piace più in assoluto. Questo è, però, obiettivi futuri nella vita, la vita va vissuta. Non sono una ragazza che tipo dice, io tra un tot di anni sarò lì, andrò lì. Perché comunque la vita, almeno per quanto mi riguarda, mi ha fatto capire determinate cose in alcuni periodi. E quindi non riesco a pensare in grande, ecco qui. Daniele Ghiraldi, se potessi cambiare nome, come ti chiameresti? Io non cambierei il mio nome, mi piace il mio nome, Sara. Quindi non lo cambierei con nessun altro nome al mondo. Alessandro Pellegrino Ciao Sara, ti vorrei fare una domanda. Ma quante razze aliene sono state registrate sulla Terra? Ed ho una curiosità, ma è possibile che i demoni attacchino solo le persone che li possono vedere? O anche quelli che non li possono vedere? Grazie delle tue delucidazioni. Allora, innanzitutto per quanto riguarda le razze aliene, ve ne ho elencate alcune nel video in cui vi parlo della tecnologia, alieni, governo e tecnologia. Quindi se ti va vai a vedere quel video lì, ci sono tante razze aliene grigi, arturiani, uh, quante ce ne sono. Comunque per quanto riguarda la domanda che mi fa il 6 secondo me, i demoni possono attaccare le persone, anche le persone che non li possono vedere. Ti dico che comunque uno spirito, benigno o maligno che sia, solitamente non viene visto da una persona, ma viene più che altro percepito. Poi ci sono anche i casi in cui si possono vedere queste entità io, tipo mi è capitato a me personalmente di vedere un'entità. Però sì, secondo me sì, i demoni, i demoni vengono chiamati, diciamo gli spiriti maligni, potrebbero sì entrare o comunque possedere una persona, anche se questi spiriti da questa persona non vengono visti. Carlo Slerno, S.S.Lerno, io entrambe le ho dette, quindi. Sara, volevo chiederti se speri di vedere un essere di un altro pianeta oppure avresti paura. P.S. puoi salutarmi? Sei bella, ovvio che ti saluto. Ciao Carlo, comunque è bella la domanda che mi hai fatto, ti dico che sì, non vedo l'ora di vedere un alieno, devo assolutissimamente vedere un alieno. Anzi, se c'è un alieno in ascolto, venite a farmi visita. Qualsiasi razza, eh, qualsiasi razza, non sono razzista nei confronti degli alieni, quindi qualsiasi razza, venite a farmi visita. Comunque ti dico, a parte gli scherzi, anche se non sto scherzando in realtà, vorrei tantissimo vedere un individuo proveniente da un altro pianeta, però non ti nego che probabilmente all'inizio avrei paura. E come? Nicola Cirulli Ciao Sara, come ti guadagni da vivere? Studio, lavori e cosa? Grazie in anticipo per una tua eventuale risposta. Io ho già risposto alla domanda che mi faceva Cristian, sì, lavoro. Silva Yellow 46 Come ti trovo su Instagram? Sarenka 23 5 Truth No Bullshit O Bals Shits O Bals Hits Mamma mia, io con i nomi sono veramente bocciata, raga. Questo lo dovete ammettere e me lo dico da sola. Sara, cosa ne pensi dell'ipnosi e del canale di Calogero Grifasi? Più del canale del grande lavoro che fa sul paranormale, ah, più del canale del grande lavoro che fa sul paranormale e sugli alieni in ipnosi. Se non lo conosci ti consiglio di seguire qualche sua seduta in video, ci sono video in italiano, inglese, rumeno, rosso, francese, insomma, tutte le lingue, addirittura. Non conosco questa persona, non conosco questo canale. Per quanto riguarda l'ipnosi, che ti posso dire? Effettivamente è un qualcosa di davvero misterioso e curioso, però mi è colta di sorpresa. E quindi andrò a dare un'occhiata a questo canale, dato che mi hai lasciato anche il link e magari poi ti farò sapere. Poi Luigi De Stefani, cosa pensi dell'avvento di Cinesi Nero Azzurro? Credi che riusciranno a vincere in circa 15 anni quello che ha vinto Fraizzoli, cioè due Scudetti e due Coppa Italia? O credi che, come pensano in tanti, non vinceranno manco quelli? O viceversa, sei ottimista e pensi che tempo 5 anni e torneremo ad alzare la Coppa dalle grandi orecchie? Oddio! È prima ancora a vincere uno Scudetto e una Coppa Italia o l'Europa League? Allora, io che ti devo dire? Io, innanzitutto, spero che a partire da quest'anno riescano comunque a costruire una squadra che sia competitiva, che possa essere competitiva a livello europeo, perché sinceramente io di andare in Champions e fare la figura, la figuraccia, non ne ho proprio voglia. Quindi vedremo un po' come decideranno di muoversi, vedremo quello che faranno, vedremo i cambiamenti che decideranno di adottare. Però adesso, ecco, paragonare o dirti se riusciremo ad alzare la Coppa dalle grandi orecchie o Scudetto, Coppa Italia o Europa League, sono delle domande difficili, sono delle domande a cui è difficile rispondere, ora come ora. Io lo spero, poi nel calcio mai direi mai, quindi... Non lo so, speriamo. Federica Agosteo, hai mai avuto delle visioni tipo Medium? Un saluto, un saluto anche a te Federica, comunque no, non ho mai avuto visioni. Claudio Wolf mi fa una domanda interessante, però ti dico già di questa domanda, avevo già intenzione di parlare in un video, perché adesso davvero mi dilungherei, mi chiede che ne pensi di David Icke? Grande personaggio, soprattutto personalità, e comunque questo argomento lo affronteremo in un altro video in cui vi dirò cosa ne penso di questo uomo e di tutto quello che lui dice, soprattutto riguardante gli Illuminati, perché arriverà, raga, il video riguardante gli Illuminati, ci sono così tanti video che vi sto realizzando, che aiuto, aiuto. Poi, Davide Giannotti, ciao Sara, da interista sportiva ed obiettiva, secondo te sarebbe giusto vendere Icardi a fine stagione, perché io, nonostante tutto, lo spero, in quanto i suoi numerosi gol non sono sufficienti a questa Inter, ma bensì servirebbero altri attaccanti che, oltre al gol, partecipano sempre alla manovra dell'azione che possa portare davvero quel salto di qualità al nostro attacco. Allora, innanzitutto ti dico, innanzitutto ciao Davide, secondo me Icardi potrebbe anche, se fosse per me potrebbe anche andare via, ma per vari motivi. Io lo ringrazio, perché noi comunque interisti lo dobbiamo ringraziare, ci siamo arrivati lì quest'anno e soprattutto per merito suo e dei suoi gol. Quindi non mi va di dire Icardi, ah che schifo, assolutissimamente no, perché, voglio dire, è un giocatore valido, sì, dici bene, magari durante le partite potrebbe mostrare più partecipazione, probabilmente sì, magari i suoi gol non sono sufficienti, come abbiamo detto, grazie ai gol, noi siamo arrivati dove siamo arrivati quest'anno, grazie ai suoi gol, però probabilmente sì, forse lo venderei, forse sì. Ma anche per le dichiarazioni spocchiose di sua moglie, loro un anno vogliono l'aumento, un altro anno sparano a zero sulla società, un altro anno, tipo quest'anno, comunque hanno dato un'immagine di quella che è la società dell'Inter, proprio non ne parliamo, quindi sono un po' indecisa, ma probabilmente sì. Giovanni Urniani, ciao Sara, ciao Giovanni, sei appassionata alla saga di Harry Potter, grazie un abbraccio, ovvio, ovvio. Mi piace tantissimo Harry Potter, anche il Signore degli Anelli, Il Signore degli Anelli è il top, però sì, Harry Potter adoro. Nico 32, ciao Sara, ciao Nico, vorrei misurare il tuo grado di interismo, quante volte sei stata a San Siro? Il grado di interismo si misura in base a quante volte sono stata a San Siro? Cioè, alla fine io vivo in Puglia, San Siro è a Milano, quindi capisci che la distanza è tanta, poi non è che ho tutti sti soldi da spendere ogni fine settimana, parlandoci chiaro per andare a guardare le partite, ci sono cose molto più importanti nella vita, quindi ci sono state parecchie volte, soprattutto quando ero più piccola, però il grado di interismo si misura da questo. Hai mai pensato di tifare per altre squadre? No, mai. E se fossi il presidente dell'Inter quanto spenderesti? Oddio, dipende, dipende. Sicuramente tutto l'oro del mondo per Thomas Müller. Poi, Emanuele De Giorgis, ciao, ciao a te. Dato che abiti in Puglia, volevo chiederti se ti piace la pizzica. Ah, tipo quella danza? No. Io sono stata una volta in vacanza in un campeggio a Cagnano Varano, Foggia, e dei ragazzi la ballavano e suonavano, è stato amore a prima vista. Non sopporto, non sopporto, quindi no. Vincenzo Gargiulo, ciao Sara, complimenti per il tuo canale, volevo chiederti se secondo te tra noi terrestri ci sono già alieni o no. Ciao Vincenzo, comunque sì, secondo me gli alieni sono già tra di noi. Grazie a tutti.